Uno degli elementi del racconto di Maria Grazia Ogerina era la questione numero di vaccinazioni. Cioè in tanti dicono, ma poi se lo devo fare nei 3-4 mesi siamo matti 4-5 vaccinazioni. Ora intendiamoci, c'è il paziente, il cittadino che non ha particolare esperienza o comunque che non ha competenza nel merito e poi però ci sono anche gli specialisti, i medici, gli esperti e per esempio Crisanti ad un certo punto ha detto il problema con i vaccini a proposito della quarta dose e che perdono efficacia nel difenderci dall'infezione troppo presto e quindi bisogna farci un ragionamento perché questo non va bene. E allora le chiedo, posto che a mio giudizio quello che ho capito è che impariamo strada facendo e quindi chiunque si avventuri in previsioni probabilmente compie un errore però noi effettivamente per quanto ne sappiamo oggi faremo una quarta dose con i vaccini che conosciamo oggi possiamo immaginare in un futuro non troppo lontano di vaccinarci magari una volta all'anno con vaccini adeguati aggiornati per le nuove varianti così come facciamo oggi con l'influenza quale di queste ipotesi è la più realistica? Guardi, come ha detto lei impariamo strada facendo, questo lo dobbiamo assolutamente dire sì perché acquisiamo informazioni a mano a mano e sulla base dei dati che acquisiamo orientiamo le indicazioni che diamo ai cittadini quindi questo è così, quello che può sembrare un cambiare idea in realtà è soltanto adattare l'indicazione alle evidenze che stiamo raccogliendo quindi questo tanto per chiarire non lo sappiamo direi oggi quante dosi ancora dovremo fare, a che distanza perché ci mancano molti elementi non sappiamo per esempio la terza dose per quanto tempo si rivelerà efficace non sappiamo che livello di circolazione virale ci sarà nel momento in cui la protezione offerta della terza dose si dovesse ridurre quale variante sarà in giro non sappiamo quanto la quarta dose proteggerà ulteriormente rispetto alla terza perché quello che abbiamo capito ad esempio è che c'è il tema del caldo, del freddo e quindi del fatto che stiamo più o meno negli ambienti chiusi per cui se la mia protezione legata al vaccino svanisce in un periodo che è tra primavera e estate in cui il virus sta circolando di meno poi bisogna vedere che variante c'è adesso diciamo al momento l'EMA che è l'agenzia europea del farmaco ha detto che è prematuro parlare di quarta dose per l'intera popolazione caso mai si potrà considerare per i soggetti fortemente immunodepressi però di fatto dati al momento ancora non ne abbiamo non lo sappiamo la risposta più onesta sarebbe dire ancora non lo sappiamo mi piace la dottoressa Popoli perché è difficile che le persone dicano non lo so e se non lo sappiamo non lo sappiamo